Vittorio Moroni che è il regista di questo film, accompagnato questa notte da Elena Arvigo. Un minuto per raccontare il suo film. Se chiudo gli occhi non sono più qui, che significa? Beh, se chiudo gli occhi non sono più qui è quel gioco che credo ciascuno di noi ha fatto durante la propria infanzia, quando le cose intorno erano troppo insopportabili e allora si sperava che chiudendo gli occhi ci si potesse trasferire in un altrove. Il film parla di adolescenza, parla di un ragazzo adolescente che ha perso il padre, un padre amatissimo. Ritorniamo sul tema del padre, come un ragazzo adoro. Ci ritorniamo sia attraverso la storia sia credo un po' simbolicamente, nel senso che parliamo di una generazione che si trova con un futuro che è stato sbranato dai propri padri, senza padri e forse anche senza maestri. Chico in realtà cerca un maestro, cerca qualcuno che lo possa guidare, che gli insegna a lottare per riappropriarsi del proprio destino. Elena, chi è in questa pellicola? Elena Rigo? Io sono una delle professoresse che si occupano della formazione di questo ragazzo e avviene appunto nella scuola. Io sono una di queste, però la professoressa cattiva e questo è stato molto divertente perché poi lavorare con Vittorio è bello, perché si lavora prima, poi quindi diciamo che questa non era bidimensionale il personaggio, quindi si è partito dal fatto che lei avesse una zoppia fisica e poi questa cosa si è trasformata in una invece zoppia emotiva. Quindi in realtà il suo essere severa dipendeva proprio da un suo problema e quindi in realtà era un atto che faceva di generosità verso il ragazzo. Bello, molto impegnato e abbastanza pesante, però molto bello. Il personaggio di Chico, troppo intenso, la parte finale che ti rimane l'amaro in bocca. Credo che sia anche stimolante dal punto di vista delle riflessioni che nascono dopo averlo visto, direi bello, un bel film. Un soggetto interessante e vivo, molto attuale rispetto sia alle situazioni dei ragazzi sia alle situazioni delle famiglie. Bellissimo, molto interessante veramente, tematiche importanti e molto ben fatto.